Ciao, mi chiamo Padre Angelo, vengo dall'Italia, provincia di Roma, cisterna di latino. Ho venuto qua a farmi un intervento per i denti. Mi sono trovato tanto bene. Scusate pure che non mi sa ci spiegare, però io sono andato tanto felice e contento. Adesso mi ritorno in Italia e contento meglio di prima.